Riesumare, 50 anni dopo il corpo di Stefania Pettini per cercare un DNA. La diciottenne uccisa col fidanzato a Borgo San Lorenzo fu l'unica a provare ad affrontare il mostro di Firenze prima di morire. Addosso potrebbe avere tracce del patrimonio genetico dell'assassino. Lo spera l'avvocato della figlia di Nadine Moriot, ultima vittima con Jean-Michel Cravaichvili, per poterlo confrontare con quello isolato su un proiettile che mancò i due, da poco individuato da un ematologo. Il legale dei familiari di altre vittime propone un confronto più semplice. Sulla saliva delle tre lettere che con ogni probabilità il mostro, almeno la procura ha sempre ritenuto che fosse il mostro, inviò ai tre magistrati inquirenti. Uno spiraglio anche per rivedere il ruolo dei compagni di merende Mario Vanni e Giancarlo Lotti, gli unici condannati in via definitiva, ormai entrambi morti, i parenti cercano la loro riabilitazione. E' più percorribile in questo momento la strada della revisione. Complici di un mostro senza nome, anche se nell'immaginario resta quello di Pietro Pacciani, morto prima di un nuovo processo d'appello, dopo l'annullamento di quello che lo assolse. L'autore sta nelle carte, di questo lo posso dire con assoluta convinzione.